Siamo contenti quest'anno di essere entrati nel cartellone di Jetsme, un importante festival milanese che ormai ha la sesta edizione e che per questo primo anno ha deciso anche di andare fuori la città di Milano. Come San Donato siamo entrati in questa programmazione con due concerti, uno nella parte antistante alla scuola civica, la scuola di rock e uno nella serata con un duo molto importante nell'ambito jazz italiano che abbiamo svolto all'interno della chiesa di Santa Barbara a Metanopoli. Insieme alla proposta di concerti anche in circuiti importanti come questo di Jetsme, come amministrazione stiamo lavorando negli ultimi anni nella promozione della musica anche attraverso le nostre scuole civiche che sono quindi un presidio importante a livello territoriale e un presidio di qualità proprio nella proposta musicale e nell'incentivare le persone a studiare e ascoltare musica. Speriamo sia quest'anno, questa proposta di Jetsme, il primo anno di una lunga serie. Ancestasi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.